La tragica notizia del decesso di Lisa Labbrozzi, 40 anni membro del direttivo provinciale di Forza Italia, gettato un'ombra di lutto sull'intero partito, trovata senza vita nella sua residenza casale, è stato il padre Carlo Felice a fare la terribile scoperta. Nonostante i tentativi di soccorso, la sua vita è stata tragicamente spezzata. Labbrozzi, stimata manager e membro del consiglio di amministrazione di Contarina, era una figura di rilievo nel panorama politico locale. In segno di rispetto e cordoglio, Forza Italia ha deciso di cancellare tutti gli impegni elettorali previsti per la settimana. Lisa era attiva sul territorio nelle ultime settimane, concentrata sulla chiusura delle liste elettorali di Preganziol e Mogliano e sull'organizzazione della prossima campagna elettorale. Il suo contributo alla causa del partito era inestimabile. Lisa Labbrozzi, oltre al suo impegno politico, svolgeva anche il ruolo di operation manager per GD e azienda specializzata nella fornitura di materiali edili con sede a Bologna. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, non solo all'interno di Forza Italia, ma anche nel mondo professionale in cui operava con dedizione e competenza.